ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi ho deciso di riportare pain's creak killings perché l'ho giocato approfonditamente l'ho finito mi sono preso due tre giorni me lo sono spolpato totalmente l'ho finito l'avevo già portato un anno due anni fa adesso non mi ricordo e l'avevo descritto come uno dei giochi più unici nel suo genere perché è un investigativo basato su comunque lo scrivere gli indizi su un tacquino su pc su un file diciamo di testo per fare i nostri collegamenti mentali perché il gioco non ci guida e avendolo finito vi dico solo che lo reputo uno dei più bei giochi che ho giocato in vita mia l'ho scritto anche nella recensione quindi voglio parlarvene ovviamente senza fare spoiler passeggiando per questa città perché voglio di solito noi proviamo i giochi un po come se li provassimo insieme sul sul divano insomma voi venite a casa mia lo proviamo insieme vediamo un attimino come si muove come si comporta cos'è come le features se riusciamo a accogliere subito al primo colpo se necessita di un approfondimento insomma diamo un parere sommario al gioco ma di questo gioco io voglio parlarvi con questo breve video perché sono entusiasta dell'ho finito è un gioco eccezionale e voglio insieme a voi capire se questo gioco fa al caso vostro oppure no il gioco è un investigativo ci ritroveremo in questa città il nostro capo ci ha mandato qui a breve questa città verrà distrutta e disabitata da da qualche anno sono andati via tutti ed è un gioco la storia inizia negli anni 70 per concludersi nel 95 96 poi nel 98 vanno via definitivamente tutti ora siamo nell'anno 99 investigheremo ci manda al capo per capire cosa è successo perché una donna è stata uccisa e noi andiamo qui cercando di come reporter con la possibilità di scattare delle fotografie di scoprire il più possibile il gioco l'ho finito in una decina di ore correndo perché comunque io me lo sono spolpato l'ho giocato veramente in ogni momento l'ultimo ho fatto un pomeriggio tipo da sei ore ci ho giocato ininterrottamente tutto il pomeriggio perché alla fine volevo scoprire volevo scoprire vi dico subito una cosa se avete voglia di azione ce ne forse un pochino sul finale ma non vi dico niente però no non fa per voi in questo gioco si legge 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 ma a me non è mai piaciuto non sono mai piaciuti quei giochi quel gameplay di sola lettura ma in questo gioco veramente è eccezionale perché iniziate potete iniziare in vari modi potete entrare qui nella locanda come ho fatto io la prima volta oppure andare a esplorare altri edifici grossi esplorali spolparli insomma ce ne sono diversi potete iniziare in modo diverso ogni indagine è diversa nel senso che potete iniziare a scoprire delle cose che ho scoperto sul finale e sicuramente mi sarei fatto molte altre idee diverse se avessi iniziato tutto appunto dal contrario dal finale è un gioco dove praticamente voi dovrete trovare oggetti che vi daranno accesso a determinati magari cassetti stanze insomma trovate una chiave vi apre quella quel cassetto questo cassetto esempio vi dà e all'interno trovate un diario un diario di un tizio che poi pian piano inizierete a conoscere tutti i personaggi di questa storia i personaggi primari secondari ma sono tutte parti di un sistema alla fine inizierete a prendere dimestichezza con chi è chi il ruolo di chi addirittura troverete magari delle schede delle carte di identità troverete quando è nato troverete le sue abitudini entrarete come in un romanzo in confidenza con il loro stile di vita e il loro modo di pensare e quindi inizierete a farvi le vostre teorie ma quello ha fatto quello e magari su un diario è scritto che il tizio aveva settato la sua password della sua scrivania come la data di nascita di un figlio di un parente di un fratello e a quel punto correrete subito a cercare quella quell'oggetto e lo aprirete e avrete un nuovo indizio vedete io già adesso ho aperto dei cassetti è tutto aperto ho esplorato tutto in ogni angolo quello che voglio però dirvi è rassicurarvi che non ci sono cose astruse dove dovete vedere ad esempio il quadro il contenuto del quadro il particolare sì no non è così state tranquilli che non è niente di così cervellotico è tutto piuttosto chiaro dovete solo leggere con attenzione il blocco note è utile per ricostruirvi la nostra la vostra cronologia degli eventi in questi poster trovate anche dei dati ad esempio magari scoprite la professione di un tizio che comunque magari nella storia scoprite che magari non lavora più per una data attività e li scoprite ah si è messo a fare questo ok aspettate adesso per una cosa che non ha senso gli fate una foto e ce l'avete sott'occhio dopo adesso non vi apro il mio rullino perché sono praticamente a fine gioco vi fa un save prima di finire e per quanto il gioco vi dica alla fine dovete decidere voi non è che poi alla fine dovete dare voi una risposta scrivendola e dovete sì però diciamo che il gioco ha una conclusione un po come quei giochi di avventure world remains o credit finch o giochi del genere nel senso che ha un finale ha un evento scatenante il finale però cavoli ragazzi questo è eccezionale potete esplorare tutta l'intera cittadina tante case non si aprono sono tutte chiuse alcune le potete aprire quando recupererete la chiave insomma ci sono tanti particolari da scoprire calcolate che io il gioco l'ho finito al 97 per cento mi manca quel 3 per cento di non so cosa ci sono ancora alcuni dubbi che ho su alcune cose ma cose venali veniali per il resto ho corso avanti e indietro cercando indizi riesplorando zone il trucco può essere anche quello di di tornare sul posto ogni volta che accederete a una nuova zona di di guardarla attentamente in ogni angolo aprendo ogni cassetto cercando magari da qualche parte per terra se ci sono degli oggetti dei fogli e credetemi ogni volta che aprivo un cassetto per quanto io non ami magari quei giochi con mille testi da leggere aprire un cassetto trovarci un diario lo giravo lo ruotavo vedevo di chi era me lo leggevo e aumentavo la mia conoscenza della storia e dei personaggi personaggi che comunque vi entrano nel cuore e alla fine la storia diventa non vi dico complicata perché non è eccessivamente complicata però vi farà arrivare a un punto che veramente mi ha fatto venire al pelle d'occa perché mi sono detto ma vuoi vedere che oddio e mi mettevo a correre cercando nuovi indizi con un timore che quella mia quel mio presentimento fosse vero non vi dico se poi fosse vero o no ma veramente mi ha condotto questo gioco ha saputo toccare i tasti giusti della mia della mia esplorazione qua siamo nella villa la villa bellissima del di quello che era un tempo il sindaco di questo paese la cui moglie è stata trovata morta e quindi dovrete esplorare e questi luoghi queste stanze cosa c'è vi saranno familiari pensate in sole dieci ore ma se ve lo volete giocare con calma spolpalvero con calma anche venti ore ma è un gioco che all'inizio quando vi portai il video mi sembrava da un lato intrigante originalissimo perché non ce ne sono di questo genere tra l'altro questo sviluppatore ne sta facendo un altro ma mi sembrava anche un po buttato lì nel senso chissà come finirà chissà se alla fine dovrò io davvero trarre delle conclusioni estruse magari trovare no il gioco ha un finale ed è guidato in questo finale ma vi snocciolerà tutte le cose sotto forma di diario documenti giornali in modo tutto diciamo senza pietà non vi non vi darà fiato vi toglierà comunque tutti i dubbi vi toglierà tutti i dubbi adesso io ho sempre la torcia accesa ma li vedete la la foto di famiglia non vi dico nulla perché ogni stanza è un uno scrigno da scoprire cassetti da parire armati da parire e non vi dico i segreti perché cose inaspettate colpi di scena ce ne saranno e anche scrigni stanze segrete ce ne sono le scoprirete potete scoprirle anche senza gli indizi però vi dico solo che ok se ne scoprite uno magari accedete a un vano segreto ma il gioco vi dà tutti gli indizi per non dover tentare neppure un enigma un codice una password a caso il gioco vi fornisce tutti gli indizi iniziate a entrare nella routine dei personaggi la loro vita i loro luoghi preferiti il gioco leggendo questi documenti che sono scritti e tradotti in italiano molto bene quindi non si fa fatica a capirli alla fine finivo per divorarli ogni volta che ne trovavo uno nuovo e quindi avete io adesso nei luoghi in cui sto passando mi mordo la lingua perché tante cose le conosco so dove abita chi dove è andato coso cioè di cose interessanti veramente ce ne sono tante da scoprire e addirittura scoprirete anche il luogo il cimitero insomma dove troverete magari dei nomi direte ah ma ma quindi e quindi andrete e alla fine scoprirete con le prove che che troverete in giro questo gioco è uno dei migliori che abbia giocato in vita mia per quanto riguarda gli indie è una storia che mi ha lasciato qualcosa dentro un'avventura che mi ha lasciato qualcosa dentro che neanche giochi grossi triple a come un mass effect come un the witcher mi hanno lasciato sono più giochi piccoli come questo che mi hanno trasmesso qualcosa e mi hanno lasciato all'interno qualcosa che mi resterà sempre quindi vi invito a provare questo titolo perché è veramente veramente unico nel suo genere e io so che qualcuno di voi vedendo il video lo ha lo ha poi acquistato e se l'è spolpato e questo è siros 1985 un iscritto da di lunga data del canale che mi ha anche ringraziato insomma mi ha raccontato della sua avventura il gioco costa 20 euro vale ogni singolo euro che costa e ovviamente vi rinnovo anche questa mia richiesta che vi ho fatto anche in altre occasioni se conoscete giochi di questo tipo magari di nicchissima in cui si investiga in questo modo magari ovviamente mi rivolgo voi se lo avete già già giocato o se avete giocato qualcosa che corrisponde alla descrizione che vi ho appena fatto beh fatemelo sapere nei commenti perché io sono veramente curioso di sapere questo per comunque giocarmelo comprarmelo spolparmelo insomma perché questo questo gioco io l'ho amato non ha più senso che io lo giochi ora so già tutto ma questo gioco è parte di me ora è parte della mia esperienza videoludica indie ragazzi fatemi sapere lasciatemi il commento qua sotto e non potevo resistere nel farvi questo video noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima e ciao ciao